Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su un nuovo video e qui ci hanno comprato la Juventus e io sono Cricrino, Cricrino è il TV numero 8 e lui è Nicky Toys numero 4 che però adesso ha cambiato il nome, si chiama Nicky Pro qui abbiamo l'albero dei Wubis i Wubis si trovano nell'iricola a prezzo per euro e 99 vi si chiama il magazine, te la daranno così eh si, grazie grazie Sam a qui Wubis iniziona Multival Challenge inizio io, qui abbiamo una serie di pallone questo una volta era una Champions League ma giocando giocando è diventato così questo è il pallone nuovo della Juventus che me l'hanno regalato al compleanno questo è uguale no, questo l'hanno regalato ma è diventato sgonfiato si dai, questo ce l'hanno regalato al supermercato qui abbiamo il pallone di spuglia per fare i miei palleggi anche di Bolle qui abbiamo la mia palla Timmy che ormai è diventata piccola era da Vici Bolle e questo abbiamo il pallone di Ben Ten ogni gol raccogliamo un Wubis dall'albero dei Wubis prima di tutto si fa il riscaldamento eh tu l'hai regalato zero per te zero per te a me uno a me uno a te zero nooo adesso io farò le punizioni lui farà i rigori inizio io barriera barriera se dovrei cercare basta allora vabbè io faccio il colpo nooo attacca a me nooo rifare perchè non era questo pallone nooo zero palloni zero palloni zero palloni con questo potevo fare un pall inglés questa è la cui ho fatto pam eh Zero palle! Zero palle! Se zero palle si ricomincia il primo round. Via! Ah! Goal! Ma no, me l'hai spostata come prima! Oh no, non è bello! Ho fatto pure un gol! Pallo attraverso! Goal! Stiamo 1 a 1! 1 a 1! 1 a 1! 2 gol! 2 vubis! Riccate, è sempre la palla! No! Io prendo il mio vento! Io la fada! No! Ok, fatemi rivedere! Ho preso uno squalo, una viena, un'unicorno! Ho portato il tavolo della fortuna! Io ho trovato quello tuo! Ma è quello il mio! Oh! Ma lei non c'è il 2! Vabbè! Io veramente non so cosa fare! Aio! Via! No! No! Goal! No! Anche io prima ho fatto gol! No! No! Allora... Anche io ti ho prendo! Abbiamo fatto due gol! No! No! A quest'ora avrei già fatto un altro gol! No! Io ho trovato la zebra e il leone! Il leone mi sembra che è uno dei monster! Come lo sai? Non me lo ricordo! Lo scuolo è uno dei monster! Mi sembra anche questo! Sì, lo scuolo è del monster! Allora, qui ci sono i monster! Via! Goal! Goal! No! 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 Oddio! Mi sono stato un gol! Niiii! No! 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 Due! Prendete i buffi! E questo? Ma qui sono acchi! Vai! Voi, dai! No, io o io o io! Sì, guardate come faccio la bicicletta, ho la zebra e il leone, l'altro sarà bene, unicorno è una scuola alleno, trovo io il mostro, trovo io il mostro, oh ci sono, ho trovato delle carte io, chi è, chi sono, provo a metterli vicino, è vero sono dei magneti, sono dei magneti, vuol dire che, vuol dire che, cioè prova a metterli così, sì è vero sono dei magneti, io ho trovato questo, è un monster, io ho trovato un super hero, che è lui, sì, io ho trovato lui che gioca a basket, è lui che, nel safari, squadra del safari, dov'è l'altro, è questo che è un cane, lui è un sport arena, e questo è un cagnolino, e questo è un dog pond, ci sono quattro squadre in B-Bulls, e il nuovo, aspetta, qui c'è anche un meccasolo adesso tre di trasporto nell'altro giardino, prendiamo tutte e andiamo e guardate il raggio, che fa il decollo, cinque, quattro, tre, due, uno, decollo che cos'è, che cos'è, che cos'è, che cos'è, quello che ti aveva detto, ah io ho trovato la bobbia, ho trovato la bocca, ho trovato, non è una bocca, sì questo, ah è un toro, è un toro, questo, sono la bocca e il toro, un attimo, ma cosa sono i numeri dietri, dov'è il toro, questo è la bocca, sì, un attimo, come sono i numeri dietri, guardate raga, questa c'è la 11 di vite, guardate le vite, però, ne trovo una, questa c'è la 11, ma questo, 7, c'è 7 raga, ragazzi c'è 7, ok, questo si chiama turbo booster, non mi dire se ho trovato, un altro, cos'è questo, cos'è questo, cos'è questo, cos'è questo, che cos'è, questo, è un sacchetto per tenere, i tuoi, ho trovato un altro, di questo, guarda, ti metti qui dentro, è vero, ho trovato la squadra di questo, calcio, calcio, margellona, calcio, margellona, e che cos'è questo elifante rosa, guardate, ma questo è quante vite ha, ok, ve ne faccio vedere in torre, i numeri in torre, mettiamoli tutti in torre, numero 10, massi, numero 18, massi, del 1 al primo, li faccio girare due, li faccio girare due, 62, 38, 31, e ciao ragazzi, ciao ciao